L'auto chiusa chiave, all'interno tutto come Blader Dedi aveva lasciato, il cellulare, il portafoglio, i soldi. Gli investigatori giunti sul posto hanno dovuto chiedere alla famiglia le chiavi di scorta per poter aprire la Mercedes. Ora si attendono gli accertamenti dei carabinieri del RIS per verificare se ci siano tracce o impronte dai primi rilievi. Non ci sarebbero all'interno della vettura macchie evidenti di sangue. Queste sono le ore salienti, quelle più importanti per riuscire a dare un nome ed un volto al killer. Sono oltre una ventina le persone sentite dai militari dell'arma, fra conoscenti, familiari, amici e colleghi di lavoro. Ogni indizio può essere fondamentale così come lo potranno essere le immagini di videosorveglianza della zona. L'aggressione brutale a Blader Dedi può essere stata compiuta da una sola persona, a suggerirlo le ferite, tante da difesa, sugli avambracci e sul palmo delle mani. Dedi ha tentato in vano di schivare i colpi, tantissimi che lo raggiungevano in tutto il corpo. Un coltello, probabilmente con una lama lunga, arma che non è stata trovata ancora dai carabinieri. Il killer, dopo l'omicidio, è fuggito portando solo via. Si scava nella vita della vittima per capire chi frequentava, con chi potesse avere un incontro quel sabato pomeriggio. Una zona dove è stato trovato il corpo, via dei colli, nota per essere un'area appartata, lontana da occhi indiscreti e frequentata da coppie alla ricerca di un po' di intimità. Perché il 39enne è andato subito dopo il lavoro in quell'area boschiva, ma soprattutto con chi? L'ultima telefonata è stata fatta ad una familiare alle 16.15, poi il silenzio, fino a domenica mattina, quando la moglie ha allertato le forze dell'ordine. L'uomo era già morto, a trovarlo un amico con il quale doveva andare a pescare proprio in quella giornata.